Radio Radicale, siamo con Andrea Orsini, capogruppo di Forza Italia alla Commissione Esteri della Camera, per parlare con lui dei funerali di Navalny che si svolgeranno venerdì prossimo. Allora, oggi c'è stata Giulia Navalny che è stata molto dura al Parlamento europeo contro Putin. Come ha trovato le sue parole, che sono di una durezza estrema, molto pesanti, e soprattutto in che clima si svolgono questi funerali? Beh, la signora Navalny ha dato una testimonianza di alto valore morale, di alto valore intellettuale. La durezza è giustificata, è ampiamente giustificata, perché la Russia con il caso Navalny è tornata indietro di 30 o 40 anni, è tornata ad essere il... Forse anche il 70. O forse anche il 70, è tornata ad essere... 71-72, perché c'era Stalin. D'accordo, è tornata ad essere la Russia di Stalin, la Russia di Arcipelago Gulag, è stata tutta la storia dell'Unione Sovietica che è stata fatta di repressione del dissenso, di isolamento dei dissidenti, la fondazione di Sakharov è stata messa fuori legge da qualche tempo in Russia. Questo dà l'idea della continuità di una logica repressiva che c'era nell'Unione Sovietica e che Putin ha rimesso in essere. In questo quadro i funerali di Navalny sono certamente un momento di altissimo valore simbolico. Io spero che tutto il mondo sia in qualche modo partecipe, anche se non si potrà essere partecipi fisicamente, sia in qualche modo participe di questo momento che non deve essere solo di dolore, ma anche per rispetto della memoria di Navalny, un momento di presa di coscienza della gravità della situazione. Il comportamento delle autorità russe è stato inqualificabile? Il comportamento delle autorità russe è stato indefinibile, direi, perché non sono neanche arrivati a fare chiarezza su quello che è successo, anche se qualunque cosa sia successa è evidente la responsabilità oggettiva di chi ha chiuso quest'uomo, che era un uomo libero, un uomo innocente, in un gula che nel estremo nord della Siberia, in condizioni di detenzione inumane, isolandolo e sottraendolo alla vita. Poi poco importa se sia stato ucciso, se sia morto di malattia o che altro. L'ultima questione, perché noi oggi non vediamo in Italia nessuna manifestazione per Navalny, per la condanna di Orlov e continuiamo a vedere proposte di boicottaggi, manifestazioni non autorizzate con scontri, finali del Festival di Berlino con ministri della cultura che applaudono? Perché esiste una narrazione stradica, purtroppo alimentata da molti dei media, da molte del mondo accademico, delle università, esiste una cattiva informazione su Israele che confonde l'aggredito con l'aggressore, essere solidali con il popolo palestinese che, indubbiamente, è una vittima di questa situazione, dovrebbe implicare condannare Hamas, non condannare Israele, perché è Hamas che è responsabile delle sofferenze di tutti, degli israeliani che ha fatto strage e del suo stesso popolo che usa come scudo e come direi di cui strumentalizza le sofferenze per sostenere la propria causa, che è una causa terroristica, è una causa con le mani sporche di sangue. Nello stesso tempo, purtroppo, esiste una scarsa consapevolezza del problema di questa rinascita dell'imperialismo russo e del totalitarismo russo, che è una parte di un pericolo globale che mette in discussione l'ordine liberale internazionale, l'ordine in cui siamo vissuti per decenni, riporta la guerra nel cuore dell'Europa e oggi veramente le frontiere della libertà, una volta si dice che si difendevano sotto le mura di Gerusalemme, oggi si difendono ancora a Gerusalemme, ma si difendono anche a Kiev e magari in un giorno lontano si difenderanno anche a Taipei. C'è una volta che si aveva chiamato Asse del Male, un quadro di alleanze oggettive, sia pure fra regimi profondamente diversi, Russia, Cina, Iran, che però hanno una cosa in comune, la volontà di annientare o di umiliare il nostro sistema di democrazia liberale. E questo ci crea un problema e un pericolo che ci riguarda direttamente, di cui forse l'opinione pubblica o perlomeno certi ambienti giovanili non si sono ancora resi conto e speriamo che non lo capissiamo troppo tardi. Grazie come sempre ad Andrea Urzini, capogruppo di Forza Italia in Commissione Esteri della Camera dei Diputati, con il quale abbiamo...